Gina, ho 28 anni e fra poco ci sposiamo. Come è avvenuto questo incontro? A Cielo Amare l'ho conosciuto. Ah, bravo, a Cielo Amare. E noi in qualche festa? No, no, ci siamo conosciuti, io abitavo a Cielo Amare da mia zia e il suo cognato che si chiama Pinuccio, c'è lo sposo che mi ha fatto presentare, mi ha fatto presentare lui. Ah, ecco, allora è stata un'occasione, per quell'occasione voi vi siete incontrati? Ho visto, sopra la strada. Ah, l'hai trovato? Sopra la strada. Come è esploso questo amore? Non lo so, è come diciamo un fulmine, un fuoco, un fulmine, non lo so. Come un fuoco, un fulmine, dimmi tua idea. Lo fumo. Un fumo? Ecco, per te è stato come un fumo, lei è stato come un fulmine. Sono i vostri programmi per il viaggio di notte, diciamo, ecco. Io ho deciso, cioè in crociera. Ah, in crociera. Lui non lo so. Tu, tu dove vai? Ecco, dice lei, io ho avuto pure io. Siamo decisi un quale, allora. Allora, perché sì? Sì, posso andare io da una parte e lui da un'altra. Con l'aereo oppure con la nave? No, io dico con la nave. Con la nave, con la nave. Dove fate tappa con la nave? Dove andrete, i paesi che voi volete visitare? Io voglio visitare Napoli, Milano, la Svizzera. Cioè, qui parla a Gini. Vediamo Giovanni, che paese vuole visitare? Lo stesso che condiziona lei. Lo stesso? Tu devi dire, dove è lei? Che paese va per lui? Ho capito, vai in ruolo. Non voglio fare dove io, vai in ruolo. Segue il suo amore. Ho conosciuto, quando stavo andando a mio cognato, ho visto lei che stavo andando alla casa, alla casa dell'azienda. Ho visto le prime volte, le quarte volte. Andare ho visto. Allora, hai visto parecchie volte? Parecchie volte. Allora, tu ti sei innamorato. Mi sono morato... Tu ti sei innamorato di me, domandolo tu. Tu mi sei innamorato a Gino, tu mi sei innamorato a me. Io sì, se mi non sono tanto innamorato di te, ma mi ce ne vedete anche di te. Eh, io sì, io mi sono innamorato di te. E basta. Per quanto siete innamorato? Per... Fino alla morte. Per tutta la vita. Grazie, per se mi piace. Allora, un bacetto e chiudiamo. Un bacetto. Ah, un bacetto come io. Un bacetto. Ah, come vu Giovanna? Anche malevigio? Sebastro di del bacio. E questo il cominge. Noi chiudiamo gli occhi. No. No. Allora, un bacetto. Un bacetto come io. No, un bacetto come io. Grazie.